Ehi la ciurma, io sono Mattias e ben ritrovati in un episodio di Imperator Room Nulla? Nulla Finiamo di preparare il preparabile, che erano delle triremi, se no ricordo male E andiamo subitamente in guerra Allora, gennaio, ok, ok, ci siamo, ci siamo, è il momento topico in cui vinciamo Non erano solo queste, però in realtà, se non ricordo, ma ne avevamo creato un altro po' anche, ecco qua In questa zona Vuol dire che per evitare problemi le raduniamo tutte qua, più che tenerle fuori in mare Ce n'è altre cinque qua, che andiamo anche a radunare in Chidonia Allora, qua in Medio Oriente sono a posto, vero come triremi? Sì, non ce ne mancano altre Quindi allora appena sono pronte, le spediamo in là C'è ancora una che sta arrivando, mi sa Sì No, scusami Perché ce n'è una con un generale Sopra Non lo so Andiamo qua Forse erano solo quattro che andavano creato, non ne ho più quali di idea Oddio, diventa anche sospettosa Perché la nostra ancora non ha nessun Tutor hair, ok Vai Allora, che cosa vogliamo darle? Un'educazione marziale Un' Orazione Allora Corrotto, ambizioso o crudele? Cos'è che ha qua? Non è né corrotto né ambizioso né crudele Ottimo Greedy, crafty, shrewd No? Harsh, rangeful, suspicious No? Allora, no In questo momento Io direi quasi finezza Il religioso non lo usiamo così tanto No, non è nessuno di quelle If you're a tutor Vada Oh, qua prepariamo le altre navi appena possibile Che è aprile Ci stiamo aspettando praticamente un anno purtroppo per tutto questo discorso Le altre stanno arrivando Quelle dal Medio Oriente? Penso di sì, sono partite Ah, ecco Eh, ok Questi ci sono Andate qua Questi ci sono Questi ci sono Boarding tactics Noi cos'è che abbiamo come Abbiamo una tattica per No, non so Possiamo No Ah, qua Ah, ok Oh, non vado a toccare robe strane Che poi dopo faccio danni strani Eh, dove stanno Stanno arrivando le altre Sono tutte là Mi sa di sì 21 Navi che vanno a raggiungere le altre 102 Così non dovremmo avere problemi Penso, spero, mi auguro Come si è messi qua la legittimità? Perché continua a calare la legittimità in un modo inverosimile? Sempre per il discorso che c'è il C'è mio fratello che ha molto più Sostegno di me Mi auguro di non morire così presto perché sennò Ah, epilessia Porca miseria Non è buono il fatto di essere epilettico Eh Dai, ci siamo quasi Ci siamo quasi Vada Ok Allora Queste ci sono Allora, visto che la mia strategia si fonda tutto su quella roba là Speriamo ci vada bene Pronti? Take up a me neanche questa roba qua Potrebbe Cerchiarmela Vabbè Pronti? Vada? Allora I forti Questo lo manderei subito Questi a prendere quello là Questi avanzate E voi andate a prendere il posto di loro o altri Poi ci sono gli altri forti Qua in questa zona? No Quindi per ora tutto a posto Poi abbiamo queste 15.000 Che devono muovere subito Qua A nasso A melo Questi dobbiamo andare a prendere con le navi Per forza Nasso Paro Eccetera Eccetera Come anche la Egino Allora Qua abbiamo Questi che manderei qua Mentre questi altri Li manderei qua tramite navi Abbiamo dei forti in questa zona Là sotto Ok Allora Diminuisco a 2 Perché E' importante vedere che cosa succede Appena succede Nell'istante preciso in cui sta per accadere Perché altrimenti Possiamo essere davvero nei guai grossi Ah qua stiamo prendendo Per il fatto di avere dei forti Che controllano la zona Allora Vediamo solo un attimo Dal punto di vista Diplomatico Contro chi siamo Is trading with Egypt Non sono entrato Non c'era Non c'era gente loro vassalla Da queste parti No 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 Guaranteeing Subjects Boh C'è parecchio Non lo so Vabbè Se guardiamo la diplomazia Boh vabbè Meglio così Se siamo solo in guerra Contro di loro Per carità Allora Qua Sembra tutto tranquillo Qua sembra tutto tranquillo Loro non stanno venendo Ah qua stiamo prendendo Melo senza colpo ferire Ok La sede di melo è stato vinto E qui Sta procedendo Tutto bene Uh cosa Ci chiedono già la pace Phrygian Rodope to Egypt Phrygian La Pamene to Egypt Ci danno Rodope a Pamene Dov'è Rodope Scusatemi Alla Pamene Dov'è Rodope Ah questa Quest'isola qua Per carità E' molto allettante Il discorso di andarci Cioè di chiudere subito Senza farne anche una guerra Ma è in la Pamene La provincia che ci interessa Da loro C'è la città Che ci interessa loro Allora No Diplomacy Decisions Decisions No è in Siria Siria e Cilicepedias Queste due ci servono Quindi no Sarò costretto a declinare Per ora Mi spiace Phrygia Ma Mi trovo costretto A declinare Stanno uscendo le navi? Sì Mi auguro che ci vada bene Cinque Allora come posizione Sono messi meglio loro Allora Tiro del dado Migliore loro Com'è il loro comandante? Hanno un dieci anche loro Ok Stanno perdendo Dodici navi distrutte Quattordici distrutte Anche se continuiamo a tirare male Di dado Perché siamo posizionati male Forse Sedici distrutte Sette distrutte Cavolo ne abbiamo perso Otto Però ne abbiamo perso Trentuno Trentadue Trentattre Trentacinque 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 Se riusciamo a indebolire Abbastanza È ottimo Dovremmo farcela Per carità però Trentatit 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 Quaranta E hanno perso La metà Sì Non è un decimino Un dieci per cento Ma loro Hanno dei danni Molto molto pesanti È andata È andata Hanno perso Sessanta navi Molto buono Allora noi adesso passiamo qua con queste Sbarchiamo con queste Poi dopo andremo a riparare le navi restanti Non dobbiamo comunque sottovalutare il fatto che possono comunque ricostruire una flotta in poco tempo Se per caso lo desiderassero Per ora qua ci teniamo le truppe tranquille Perché non voglio prendermi troppo trito O prendere troppi rischi Allora questa è andata No facciamo che mandarlo qua che è un pochettino più vicino Più gestibile la situazione Con due forti abbiamo solo quelli Accribilando di sotto le navi di cos Ehm vado Sbarchiamo anche queste se possibile Ok Ok buono L'assedio è stato vinto Muoviamo avanti Muoviamo avanti Muoverei avanti con un paio di truppe se possibile Qua prendevo attrito No non prendevo attrito Qua prendevo attrito Non prendevo attrito Quindi entriamo Ehm Armamentence cost Pedone va bene Ehm lo stanno ancora scendendo Qua questi 15.000 sono tranquilli Tranquilli Cosse sta facendo il suo lavoro Ottimamente direi Cioè beh più o meno Si sono fatte distruggere delle navi a gratis Ma va bene Farei che sbarcarano anche questi Allora Non ho idea di dove siano andate In realtà Cartagena no Ehm Ah mi stanno bloccando il porto qua Si Ehm Uh ci sta romando dei soldi Al nostro Torpheus Purtroppo lo voglio tenere vivo Perché Visto che il tutorial è di nostra figlia È che Dipende molto Il nostro futuro Da cosa succeda La figlia Ci facciamo salire un pochettino qua Al discorso Quanti anni hai tra l'altro Bella bimba 13 anni E' una serie già abbastanza grande No La antichità dai 13 anni Si è diventato Un vecchio Va bene Oh delle invenzioni Si potremmo prendere delle invenzioni Vediamo un attimo Hold triumph cost Tribute income Tribute opinion of us Tribute and output Frame and output Commerce income Starting experience Home and duration Ah questo ci può stare Visto che Avremo un sovrano vero Sembilmente Poco forte Sul punto di vista religioso Non ci interessa così tanto in questo momento Allora voi andate qui Voi direi che Prendi tutto Andate la in l'esima Cheia A sistemarvi Allora Chi è che manca di Vabbè Diciamo l'auticon Era quello che ho creato per mio marito Allora Qua dobbiamo fare un po' di carpet siege Se Possibile Vabbè andate semplicemente qua Là Va bene Allora Ok muoverei questi Qua magari Ci sta Non c'è un detached damaged Allora Vediamo un attimo Create new unit Quali sono quelle danneggiate Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci On Tote Treci Todici Quindi Sono parecchie quelle danneggiate Non so se mi conviene lasciarle qua Effettivamente Adesso vediamo un attimo Quanto ammonta Hmm Hmm sono 59 vabbè per ora si facciamo così selezioniamo questo e andiamo qui per permetterlo uno sbarco di queste truppe e vedere se per che cosa succede avendo le 50 non dovrebbe essere troppo un problema no sono sempre quelle 30 che vanno prima ok allora la sono posto questi li farei letto in modo che questi possano muoversi là non mi fido troppo di che cosa sta succedendo non ho visto delle truppe nemiche ma so che ne hanno e parecchie per cui non vorrei che all'improvviso PAM in faccia per cui continuo ad andare comunque cauto sono ancora in guerra con Cipro per cui può essere che sia dovuto da quello allora ok così non ho più felide di che siano finite le loro 30 navi e spero che non si facciano vedere presto così così è un attrito 5% di attrito 4,20 1,70 0% a questo punto vai qua scusa un attimo per prendere attrito in un territorio conquistato vai per andare attrito in un territorio da conquistare teoricamente dovremmo essere abbastanza tranquilla perchè mi auguro che non abbiano messo gente là in giro allora questi stanno prendendo faro no si faro ok molto archiatros l'archiatros e ne abbiamo uno buono si lecce una ah no c'è Alessandri che sta morendo perchè ci sono troppi schiavi ovvio allora facciamo anche promuoverne un po quanti quanti freemen abbiamo ne abbiamo comunque un botto di freemen vai qua vai a leocapis a bobotine a bobotine bolbitine scusatemi leocapis butos butos leocapis butos posto dovrebbe andare meglio no adesso ne fanno vabbè abbiamo bisogno di tutti questi schiavi d'Alessandria porca miseria ah quelle a posto per ora quelli stanno correttamente spostandosi dall'altro lato ecco le 30 navi le ho viste sono comparse per un attimo chissà dove cavolo stavano probabilmente sono qua intorno a terra penso che si fossero andate a riparare in un porto di qualche tipo se no se si stavano spostando che non si stiano spostando in là ah nasso è preso barbari dove? no vabbè ok mi arrivano in faccia ottimo ero già pronto all'evenienza military tradition ok possiamo frontale una nuova military tradition non mi ricordo che cosa cavolo stavo facendo experience decay light cavalry unslavement efficiency light infantry archers archers light infantry e poi invece è cavalry cavalry light infantry heavy no direi che andrei su questo non c'è me cost va bene non mi interessava tanto quello neanche light cavalry neanche l'inslavement ma questo qua l'offense le ultime quattro sono un pochettino più interessanti quanto non lo siano le altre dove? ah ok i barbari che spavento che spavento dai che li tiriamo giù ottimo qua sono sempre che salgono perché la civilisation non è abbastanza alta ah questi sono qua belli tranquilli facciamo che andate anche qua a ios questo è sempre ios si tera invece è tera ecco che dobbiamo prendere troppo tritor sì 500 di tritor muovetevi in qua voi muovetevi invece in qua queste sono tutte poste non ce ne sono alcune ancora messe un po' malino eh nulla di grave ma ho dei porti bloccati ah sono qua ma dove cavolo stanno andando dove stanno andando con quelle navi oh qua si è messo benissimo devo dire cioè tutta questa zona qua è presa presa ma non stanno facendo niente questi ci sono sono i miei paflagonia io sono in guerra con la paflagonia ok ci sono dei mercenari ok vedo dei mercenari non sono in guerra con la paflagonia no vedo dei soldati frigi se non altro ma al momento che cosa apamene ok vorrei anche la siria che però non posso ancora prendere vero la caria la misia la nord fenicia antigonia ok ma ci siamo quasi da antigonia ma direi che per questo episodio è tutto noi ci vediamo nel prossimo vi lascia un mi piace un commento qua sotto iscriveteci per cosa non è stato già fatto ciao a tutti ciao a tutti e buon tutto buona continuazione ciao a tutti Grazie per la visione!